Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo con Minecraft E come vi ho detto non siamo più su Minecraft Trial ma siamo su Minecraft Pocket Edition Allora giochiamo, vi faccio vedere il mio mondo Allora, questo è il mondo di Lory Che vi devo ancora far vedere E questo dove c'è scritto GS Players Che l'ho cambiato il nome E' il mio, guardate Ma vi faccio vedere Sempre se ti sei da una mossa Ancora non ho fatto niente Infatti oggi andremo a costruire una casa Oh, te sbrighi, dai Ecco qua Che c'ho qua, due merde Che so queste Ah no, vedi che no Allora, iniziamo a tagliare la legna Perché per fare una cosa ovviamente c'è da una legna Vabbè ci pigliamo tutto l'arbero Quanto manca Oh, sta albero gigante Ok, andiamo qua Che c'è qua, che c'è qualcosa Ok, andiamo Pia dei quattro di legno Se ne voglio Ecco, nooo Ok Ah, giusto Oh, che cavolo Oh, che cavolo No, vede No, vede batteria restante Vabbè raga Mi devo caricare Aspetta, mettiamo tutto a questo punto Ok, ci abbiamo 36 di legno Non è molto 36 di legno Ma vabbè Comunque raga Io avevo già un mondo Non so perché Ma mi è sparito E è venuto Sono venuti altri mondi raga Non so perché Non troppo 19 Ho avuto dei levati Ok, 4 Eccoci la crafting table Ce la piazziamo da qualche parte E ci fanno Che ci fanno niente Ma perché sono venuto qua Non ci dovevo fare niente Con la crafting table E vabbè E vabbè Comunque abbiamo fatta Perché ci sarà utile Adesso dobbiamo solo cercare Un posto dove Dove va la nostra casa Un posto che non sia troppo affollato da alberi Che se no c'è pochissimo spazio Da casa Da casa mi arriva al mare Non sarebbe male E raga Però raga vedo già che sta arriva la notte Ma non sta arriva però Ho visto che Una piccolina lucetta di oscurità sta venire raga Se non trovo delle pecore ora Allora mi tappo dentro un buco E ci resto tutta la notte Ciao mucche Ho piazzato la crafting table Sì Due di cuoio Dai ci fanno Un'armatura di cuoio Forse Allora raga La vostra modalità preferita qual è La mia È È sopravvivenza Voi Avventura sopravvivenza creativa Ok però Ora non mi devo distrarre Ecco qua Ok una casetta Questa ci dobbiamo fare però Non so dove però Ce la dobbiamo fare Oh Gli alberi Non mi fanno passare Ma quell'albero È rasato Cioè guardate come hanno rasato Quest'albero Vabbè Non mi fanno in acqua Non mi fanno in acqua Non lo ha trovato Ragazzi non sto a trovare niente Ok ragazzi ho trovato il posto per costruire la mia casa Guardate Qua pure arriva sto armare Perfetto Però con la grandezza Non deve esagerare Che io Esagero sempre Con la grandezza Che non mi bastano i blocchi Poi eh Eh ma sai che non mi bastano davvero Dai sto shift Pallera 13 blocchi Oh Mettite bene Ok ragazzi ho fatto Questa sarà la mia casetta Qua ci sarà la porta Ecco un blocco Tien Mo' vado a rasare qualche albero Che tanto sto in pacifica E non credo che I mostri mi possano prendere Almeno spero Dai è però entro oggi Beh c'è uno 7 7 non basta Però fammo quelli che riusciamo a fare Dai Vabbè solo 28 ne riusciamo a fare Comunque raga C'ho il cuoio 4 di cuoio Non so se mi basta però per Farmi l'armatura di cuoio Non carri Eh almeno un pezzo dell'armatura Però ce la faccio Faccio il pezzo più importante Eh se ha voglia 4 Questo no Beh ci potevamo fare i stivali raga Ecco Mettiamoci i stivali Ecco fatto Ma costruiamo la nostra casa 9 9 Turtici bloc Spregoci in 1 Ok Dai Forse ce la facciamo fino alla fine No ma non credo No no Forse si dai Si si che ce la facciamo No non ce la facciamo Aspetta dai forse si che ce la facciamo Dai 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 forse ce la facciamo No non ce la facciamo Ah si giusti giusti raga Aspetta ma ho fatto con legno più scuro sopra No dai Guardate raga ho fatto legno più scuro Vabbè poi ci faccio la finestra Direi che per oggi possiamo concludere Lasciate like E iscrivetevi al canale E allora Ciao E al prossimo video Ciao